buongiorno 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 ben ritrovati a questo appuntamento con l'analisi degli indici azionari però tu 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 mi raccomando ti aspetto nella trading zone sopra di me vedrai apparire anche il link in alto tra un po renato de carolis la home page del mio sito dove potrai registrarti a questo progetto unico in italia guarda quanto è bello tante chat rooms vedete quanti messaggi stanno arrivando grafici in tempo reale di trading view e sto monitorando questa situazione sul 30 minuti le live tv cnbc c'è anche lo stream di rai news sky tg 24 tutto rigorosamente in diretta è gratis gratis ci sono calendari con calendario macroeconomico c'è un'infinità di servizi vie c'è la libreria virtuale venite 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 la formazione gratuita tanta tante tante cose dentro questo progetto unico in italia la trading zone trovi adesso vedrete parirà ci sono e ci sono anche i buoni amazon non te l'ho detto se tu 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 che sei tra quelli più attivi che scrive di più ogni giorno 25 euro 5 euro ciascuno se ti confermi giorno dopo giorno a fine mese fai 100 euro e dopo mese dopo mese aggiungi ti fa il cellulare nuovo il tablet insomma fai acquisti su amazon vieni eccolo la sta uscendo adesso proprio la scritta renato de carolis.it sono presente sui vari social quelli più importanti e allora oggi torna wall street mamma mia che monotonia senza la borsa americana una tristezza almeno loro mangiavano il tacchino ieri andiamo a vedere come si ricomincia come ricominciano le borse che è successo bloomberg monito bloomberg si è fermato si è bloccato andiamo a vedere andiamo a vedere come ripartono allora le borse americane intanto quelle europee che ieri sono rimaste aperte ma con volumi molto bassi e poche indicazioni piazza a fare in questo momento più 0 36 l'indicazione più importante è arrivata da radio renato vi faccio vedere uno dei tanti servizi presenti con le news quando ho dato questa qui un'ora fa circa eccola qua 9 16 questa notizia dove un rappresentante della bce villeroy ha detto che ci sono dei casi per concedere la distribuzione di dividendi e siccome l'indice spagnolo italiano sono quelli dove il settore bancario ha un peso importante da lì è partito questo movimento primo piano primo piano eccolo qua vedete dalla notizia 9 e un quarto da quando dato quando apparsa quella notizia c'è stato quindi ha poi partita al rialzo adesso siamo più 0 35 per cento il trend è chiaramente al rialzo sotto il grafico un minuto sopra quello di tendenza giornaliera ai chinasci che ci dice che siamo arrivati a quasi 21 punti percentuali con il massimo toccato ieri il dax tecnicamente ancora al ribasso sotto all'interno e anche sotto dentro questa resistenza dei 13 mila 255 aspettiamo una violazione decisa bella più netta mentre l'ha fatto già le euro stocks e l'euro stocks in questo caso è più avanti rispetto al dax ha già bucato il livello 3472 la francia ancora al rialzo la spagna oggi si vede del rosso ma occhio se chiude col rosso in una giornata con il segno positivo è una fake inversione non è da prendere in considerazione e l'inghilterra il fusi 100 insieme alla germania sono gli indici in questo momento che hanno un'impostazione ai chinasci al ribasso vediamo l'america allora come riparte i futures in questo momento sono positivi non so se riuscite a vedere andiamo a vedere in primo piano viaggiano con guadagni 0 34 0 43 0 38 si ci siamo lasciati praticamente così con il dow jones sui massimi storici ha chiuso sotto i 30 mila li ha toccati nella seduta precedente c'è spazio magari per un ulteriore risalita lo standard impur ha fatto una chiusura c'è stata una chiusura sopra la resistenza ma in una giornata in cui è chiuso col segno meno quindi aspetto quella che io chiamo la doppia conferma e infine invece lo nasdaq 100 più 0 60 e adesso sembra puntare proprio al massimo la resistenza sui massimi storici bene dai ti aspetto ti aspetto nella trading zone se no ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo a nuova video analisi grazie buon weekend a tutti arrivederci